Ho pensato per anni a dedicare un balletto a Marcel Proust. Avevo paura della sua ricerca del tempo perduto, un'opera così imponente. Ho creato questa coreografia con la musica di Gabriel Fore nella testa. Il mio Proust è soprattutto un balletto dei sentimenti. Descrive una sessualità così ambigua e intrigante. Morelle Senlou, il diavolo nero e l'angelo biondo, Eric Wan e Jan Breck, il male e il bene. Una certa omosessualità. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.